Tanto tuonò che alla fine piobbe. Potrebbe essere riassunto così il provvedimento preso ieri dal Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto legge che prevede la revoca della concessione sulle autostrade A24 e A25 all'azienda che le aveva in gestione, Strada dei Parchi S.P.A., controllata interamente dalla società Toto Holding. Lo scorso maggio, Strada dei Parchi aveva inviato una lettera ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia per chiedere la fine anticipata della concessione, dopo che era stato bocciato il piano per mettere in sicurezza le autostrade dal rischio terremoti e per realizzare altri adeguamenti richiesti per legge. Tra le motivazioni citate dal Ministero dei Trasporti per la revoca della concessione c'è proprio l'inadeguato stato di manutenzione delle autostrade. Sulla vicenda è intervenuto il senatore, presidente della Sesta Commissione Permanente, Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D'Alfonso. Io ho la percezione che sia stato un provvedimento emotivo. Adesso vediamo quanto possa durare questo provvedimento e io mi auguro che non generi un contenzioso che trascini dentro a questo vortice i diritti degli abruzzesi, i diritti degli italiani che vanno e vengono attraverso questa autostrada. Lei spesso ha avuto interlocuzioni con Anas, le ha sempre portate in ballo. Ecco, torna ad Anas, a Dostrade dei Parchi, è la tua scelta giusta? Ma assolutamente Anas è capace di fare questa attività. Io sono stato consigliere d'amministrazione di Strada dei Parchi, prima che si chiamasse così, si chiamava Sara, tra il 97 e il 2001, quando c'era un privato allora e c'erano le province italiane ed era una gestione per conto Anas. Mi ricordo nel 2001, quando si fece la gara, che fu una gara dettata, io dico con un termine tecnico, da alcolismo, perché si stabilì che le tariffe avrebbero dovuto pagare i piani degli investimenti. L'impazzimento stava in quella anomalia di gara d'appalto che fece allora un governo sbagliato con una procedura sbagliata. Il fatto che questa autostrada di montagna diventi pubblica va benissimo. Io mi auguro solo che il contenzioso non divori il diritto degli abruzzesi di avere un'autostrada sicura con un personale pagato dignitosamente.